cavoli avrei proprio bisogno di qualche cosa di frizzante per dare un po' di pepe a questa noiosa vita eppure non ci trovano in te ed eccoci qui mamma mia si siamo di nuovo dopo tutto questo tempo il cameraman non si mette mai di mettere il dito davanti alla camera quel coglione maledetto cameraman allora siamo qui per parlare della paura ancora un nuovo episodio parleremo di slenderman e quindi parleremo di slenderman e quindi parleremo di slenderman eccoci qui buongiorno buonasera qualsiasi orario in cui siate vedendo state non so parlare vabbè e allora lo slenderman è un personaggio importante perché aspetta non abbiamo ancora cominciato allora prima cosa dobbiamo dire alcune cose premessa non siamo non riusciamo a contattare gli scheletri sus e quindi facciamo questo video ma non sappiamo in realtà se verrà pubblicato quando verrà pubblicato non sappiamo nulla e poi quella presenza strana che guglielmo ha sentito beh l'ho sentita pure io però esatto 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 quella presenza strana che poi si è andata subito e non sappiamo più cosa cosa io ho check out non sappiamo più che cosa fare di quella presenza sarà sarà un caso sarà un'immaginazione nostra chissà forse siamo ubriachi e basta vabbè esatto forse siamo ubriachi e basta e no scherzo non è vero non è non so ma comunque però vabbè comunque stanno e niente quindi probabilmente forse non dovremmo non farlo appunto questo video quindi va bene basta è meglio che finiamo qui insomma non lo facciamo lo facciamo lo giriamo un'altra volta ciao addio eh ma ma veramente al fine hai messo il video eh beh insomma tanto se non sappiamo se non riusciamo a contattare le scherette su che le facciamo a fare i video scusa no ah beh effettivamente però il cameraman il cameraman perché stai filmando ancora ma stai filmando bastardo allora vedi volevi farci volevi coglierci all'improvviso così dicevamo cose strane poi le pubblicavi maledetto cameraman poi dici perché non ti pago eh ci mancherebbe altro eh sì 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 ridi 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 riderai meglio quando quando non troverai la cena stasera coglione e non dire coglione che mi ricordi quel bruco di merda madonna madonna mia è vero quel bruco di merda vabbè e stiamo attenti pure noi con le parole che sono quello ci prende ci fa insomma comunque partiamo col video senza intuci ecco e dunque parliamo un po' che cosa fa questo slender man allora innanzitutto voi lo trovate sapete dove nelle foreste buie in posti bui scuri sus però non sus il nostro amico sus sospetti intendo e praticamente lui che cioè non è che ha paura del sole insomma non si fa nulla al sole non è come i vampiri o come gli otaku insomma lui al sole può stare benissimo però lo trovate nei posti bui gli piace farvi prendere il colpo l'ansia tutte queste cose per mettervi paura terrorizzarvi molto pericoloso in questo senso ecco insomma vabbè non è pericoloso perché vi terrorizza ma è pericoloso per altri motivi ma adesso lo capirete insomma anche che vi terrorizza è una brutta cosa e quindi praticamente lui che fa stare nelle foreste tenta gli agguati alle persone che ci entrano dentro non entrate mai nelle foreste mi raccomando no vabbè se volete entrare nelle foreste entrateci però insomma state attenti mi raccomando se siete dei bambini statevi sempre accompagnare dai genitori o da persone adulte responsabili e se siete invece adulti andate a fangu no 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 non si mandano i fan però insomma non andatevi a cercare guai da soli che già ne avete abbastanza secondo me ecco vedi sono pure uno psicologo ormai vabbè sono un rapper psicologo io 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 check it out e non ridete maledetti allora e quindi questo diciamo l'aspetto lo potete trovare più insomma nelle foreste principalmente e ora vi spiegherò però che cosa fa uno dei poteri dello Slenderman e ma innanzitutto scusate per la qualità della foto ma abbiamo trovato una migliore ma scusate ho un dubbio ma Guglielmo cioè Benito deve essere Guglielmo sono io Benito ma sopra te ti ricorda qualcuno questo Slenderman questa foto e veramente stavo pensando pure io non sembra quasi quasi il vice del Godness effettivamente il vice del King che sembra proprio lui ma è vero infatti guardate sta lì con con una bambina vabbè io non dovrei come ma perché Camera vabbè lasciamo stare ma comunque sì secondo me insomma personaggio pericoloso vabbè comunque lasciamo stare le cose del God of Us che tanto non lo conoscete quindi non potete sapere chi è il vice vabbè nemmeno il King vabbè e questo vedete l'obiettivo dello Slenderman in molti avvistamenti sono i bambini le bambine tutti questi perché come vedete nelle foto in cui è avvistato lo Slenderman ci sono dei bambini nelle foto successive non ci sono più sono scomparsi se le mangiate le uccise non si sa che cosa ci fa quei bambini non voglio nemmeno saperlo sinceramente però lui rapisce i bambini e allora è pericoloso per questo vi diciamo insomma state sempre attenti se andate nelle foreste non vorrei mai che incontrate uno Slenderman e quindi è pericoloso i suoi poteri valiano appunto prima abbiamo detto che terrorizza ma in che modo lui entra nelle vostre menti nelle vostre testoline e quindi che cosa fa lui vi terrorizza psicologicamente capito si dice che se tu non vieni ammazzato dallo Slenderman ti suicidi tu stesso perché è talmente terrorizzante vivere con questa paura con questa ansia di ritrovare questo mostro mostro che ti suicidi tu stesso e quindi è pericolosissimo poi i suoi poteri invece fisici diciamo questi poteri fisici ok ma i suoi poteri fisici proprio che cosa fa lui c'ha i tentacoli l'avete visto nella foto prima c'ha dei tentacoli non è chiaro quanti siano questi tentacoli se si li può ritrarre a suo piacimento come funziona non si sa ma tu sai che lui i tentacoli li può allungare all'infinito e terrorizza maggiormente le vittime a lui gli piace gli si fa vedere di sfuggire così tu ti terrorizzi ti cacchi nelle mutande e poi mentre ti cacchi nelle mutande lui fa passare un po' di tempo e ti fa stare tranquillo e dopo ti colpisce ancora pensare sul più bello quando pensi di essere scappato è terribile è terribile è un personaggio incredibile comunque alcune testimonianze dicono che lui può essere che si mostra a te magari quando hai 10 anni passano 20 anni ne hai 30 e non l'hai mai visto durante questi 20 anni ma lui ti uccide ti compare e ti uccide capito quindi lui non ha un tempo una cosa ti prende e ti vede comunque perché ora spiegheremo perché proprio i bambini chissà non è chiara questa cosa però c'è una teoria teoria incredibile ora ve la spiega Benito perché mi sto scocciando devo prendere un po' d'acqua per bere sì esatto la teoria dice che praticamente questo Stanley era un padre di famiglia aveva un figlio una figlia non mi ricordo onestamente e praticamente durante un incidente d'auto è morta il figlio è morta la figlia e lui è rimasto gravemente ferito vedete la faccia è stato sfigurato totalmente sì alcune teorie dicono che sia un incidente d'auto alcune dicono che sia un incendio nella foresta guarda caso però insomma un incidente a caso gli ha sfigurato la faccia e gli ha ucciso il pargolo la prole incredibile vedete che termini incredibili che usa e successivamente a questo lui si vendica i bambini li mangia li uccide li fa quello che vuole però ripeto è una teoria perché alcuni diciamo i puristi dicono no 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 lui è talmente cattivo che non può essere certo una cosa del genere e quindi vabbè comunque poi c'erano anche teorie secondo cui ci sono più slendermen ma sempre i puristi dicono no è solo uno ma è talmente bravo che fa credere che ce ne siano di più e poi un'altra cosa questa la aggiungo però dobbiamo passare alla slide successiva è che praticamente secondo alcuni è una leggenda recente no una creepypasta recente però ci sono stati avvistamenti anche nel nel Brasile nelle insomma nelle pitture rupestri in alcune cave brasiliane come vedete qui posso dire una cosa posso dire una cosa avvenito non esagerare però io so già cosa vuoi dire non esagerare posso dire una cosa veramente ma i brasiliani non sapevano disegnare guarda che disegni strani che fanno cosa sarebbe questo sarebbe un arco questo sarebbe uno struzzo un cervo che cosa sarebbe non sanno disegnare i brasiliani non sanno disegnare ma io pensavo pensavo dicessi un'altra cosa ok insomma comunque complimenti insomma insomma Rocco ne sarebbe fiero secondo me comunque dicevo come vedete insomma nell'antico Brasile nelle cave ma pure qui ma pure qui c'è un tizio con un vabbè lasciamo stare gli antichi erano molto insomma birichini diciamo ecco comunque vedete c'è c'è uno uno slenderman quello che sembra essere uno slenderman vedete è alto con tutti questi tentacoli non avevano altri colori e quindi insomma facevano tutto nero però insomma vedete insomma questo sembra proprio uno slenderman un po' storto però stiamo parlando del Brasile antico quindi non solo nel Brasile ma ora vi leggerò alcune cose eccoci qui appunto il primo ritrovamento valido della leggenda è costituito da delle pitture rupesti situate nel parco nazionale Senta Capivara a nord est del Brasile che si suppone risalgano al 2000 avanti Cristo ai miei coglioni minca ieri questa situazione insomma capite che è vero effettivamente che quello era ritenuto una sorta di slenderman ovviamente non c'è il concetto di slenderman ancora però insomma se effettivamente le sembianze erano quelle insomma può essere una testimonianza questa qui che rafforza la veridicità della leggenda ecco i dipinti in questione raffigurano essere stranamente alto che tiene per mano un bambino come un bambino aspetta questa non l'ho vista non l'ho vista questa aspettami ehm e dove sarebbe il bambino non lo vedo vabbè questi brasiliani erano un po' frupacchioni secondo me ma forse lo sta tenendo tipo telepaticamente con la telecinesi tipo lo sta tenendo prima non lo so è strano questa cosa comunque vabbè insomma ah ma questi non fanno non fanno alcun riferimento ok quindi forse nel senso che le immagini non c'entrano col testo vabbè ok ci sta ci sta ora parlerà invece Guglielmo ci switchiamo un attimino geroglifici egizi dunque ecco vai Guglielmo aspetta che cosa guarda che stronzo sto camera ma che non riesce ad aggiustare ecco il prossimo possibile ritrovamento conosciuto è collegato allo slender medisale del 31220 cristo circa nell'area del base egitto in cui esso viene anche denominato ladro degli dei o ladro di croc mi ricordo un ladro di cook il che diventò un luogo comune durante il regno del fanore what's there incisioni geoglifici rappresentanti in ladro sono stati ritrovati nella tomba del frarone il quale esigeva di essere avuto qualche genere di incontro con le città queste raffigurano una strana creatura con più arti situate nella zona superiore del corpo incisioni che però non sono mai state ritrovate da nessun altra parte in altra lingua geoglificata ok ho letto e devi spiegare pure che fai legge basta ma poi perché sono girato così non so perché sono ecco ecco ci sono quindi praticamente insomma anche vediamo nell'Egitto ci sono queste raffigurazioni simili allo Slenderman e ce ne sono anche altre testimonianze ma non le facciamo tutte sennò il video diventa lunghissimo però è interessante vedere come anche nell'antichità ci fossero cose simili e quindi niente ora invece dall'antichità vorrei passare ai tempi moderni cosa ne dici passiamo ai tempi moderni passiamo ai tempi moderni in una maniera che forse non vi aspetterete però insomma ma ecco insomma allora insomma abbiamo detto che nelle antichità c'erano raffigurazioni dello Slenderman e tutto quanto poi insomma nel presente diciamo ci sono le creepypasta tutte queste cose ma cosa c'è nel futuro diciamo che in realtà adesso il presente è forse anche passato però la contaminazione culturale si spinge ovviamente oltre l'Europa oltre insomma in tutto il mondo poi lo Slenderman è famoso in tutto il mondo anche anche in Giappone sto ridendo ma anche in Giappone si evolve questa cosa e quindi c'è la contaminazione culturale cioè si unisce lo Slenderman al Giappone in maniere forse inaspettate non so che dire assurdo non so che dire veramente assurdo sì esatto questo qui è Koro Sensei come lo chiamate quel professore molto carino tentacoloso che è pericoloso non so che cosa ho detto e insomma ovviamente lui un po' ricorda lo Slenderman perché c'è la faccia un po' così è di tutta di un colore che vabbè giallo non bianco vabbè comunque c'è i tentacoli insomma è un po' simile un po' simile a lui e lui ha la caratteristica che si spaventa di tutte le cose e quindi c'è un incredibile diciamo fan art come posso chiamarla che insomma rappresenta appunto lui che vede lo Slenderman nella foresta e si spaventa però a quanto pare sembra anche lo Slenderman spaventato quindi insomma è interessante e carino vabbè insomma è una stronzata però è carina come cosa e e questo è quanto e questo è la la incredibile rappresentazione di dell'unione tra Giappone e Koso e Slenderman comunque più o meno abbiamo parlato di quasi tutto insomma abbiamo detto quasi tutto quindi ci possiamo dileguare penso finire qui il video che dici? va bene così allora finiamo il video e viva viva lo Slenderman no scherzo non si fanno quelle cose eh maledetto comunque niente passiamo ai saluti bene detto questo noi vi salutiamo e vi diamo attuntamento al prossimo episodio incredibile che parlerà di che cosa? che cosa parlerà non lo so nemmeno io secondo me parlerà di mannaggia mannaggia e lo so è un inizio stavolta molto difficile però non possiamo dirvi altro è una cosa che stavolta abbiamo detto insomma creepypasta che tutti conoscevano stavolta diciamo creepypasta sconosciuta e parlo così perché non lo so comunque addio ciao ciao addio ciao addio buon episodio ciao prossimo ciao addio ciao